Con Maria Teresa Rett, consigliere comunale di minoranza a Portoguaro. Lei ci vuole parlare oggi di un problema che non ha colore perché stiamo parlando delle mense per i ragazzi della scuola. Cos'è successo? È successo che la vigilia di Natale è stata pubblicata sul sito del Comune di Portoguaro la comunicazione che il servizio, la tariffa delle mense scolastiche, avrebbe subito e subirà un aumento a partire dal 1 gennaio di 90 centesimi a pasto. Ora questo solleva una serie di questioni. A parte il fatto che 90 centesimi a pasto per bambino significa una media di 18 euro in più al mese per bambino e per famiglie che hanno due o più bambini che mangiano tutti i giorni per otto mesi all'anno in mese, insomma è un aumento considerevole. Al di là di questo, quello che ci ha stupito e ci ha portato come gruppo civici e democratici a presentare un'interrogazione in merito è innanzitutto la modalità di comunicazione, nel senso che se è vero come si evince, che già al momento della gara e dell'aggiudicazione alla nuova ditta questo aumento era previsto, perché non è stato comunicato prima e perché una volta conosciuto l'importo esatto dell'aumento il Comune non abbia fatto comunicazione nella sede deputata, cioè durante la prima convocazione della commissione mensa in questo momento era già noto perché comuni limitrofi avevano già comunicato l'importo.